Eccellenza, qual è il messaggio di questo Natale? Un Natale diverso dagli altri, un Natale ancora più sentito per le tante difficoltà che si stanno attraversando? No, è un Natale che ci chiede di riflettere, di pensare, finalmente di avere tempo a disposizione per pensare, riflettere, pregare, pensare alla nostra vita interiore perché abbiamo tutti una vita interiore da coltivare e che molte altre volte, forse tanti altri Natali, non abbiamo, non abbiamo saputo, non abbiamo potuto, non abbiamo saputo coltivare. Questo è il tempo in cui forse ci è permesso di fare con più serenità per aggrapparci alle dimensioni della fede, alla dimensione della speranza. Ecco, la speranza che la memoria storica della nascita di Gesù e l'attesa del suo ritorno nella gloria, quando verrà Signore del Cielo e della Terra, a guarire tutte le malattie, a guarire tutte le sofferenze e a risuscitare tutti i morti, possa essere realmente quella speranza che alberga nel nostro cuore. Una pandemia eccellenza che ha portato anche tanta povertà in più, tanti nuovi poveri, lo testimoniano anche i dati che sono stati resi noti nei giorni scorsi dalla Caritas Diocesana. Ma questo è un fenomeno a cui stiamo assistendo ormai dal mese di febbraio, marzo, perché immediatamente le persone più fragili, le persone più deboli, hanno avuto subito problemi di vario genere, di vario tifo. Io penso, per esempio, a molti che non avevano lavoro, cioè già quella era una situazione di precarietà. Ma magari qualcuno si arrangiava facendo lavoretti, diciamo così, anche di poco conto, ma pur guadagnando qualche cosa per la propria vita, per la propria esistenza e per la propria famiglia. Questo non c'è stato più. E quindi, in realtà, alla fine, il numero delle persone che chiaramente hanno dovuto trovare una soluzione ai loro problemi è aumentato a dismisura. Credo che sia nostro dovere personale aiutarli, forse nel silenzio e forse nella discrezione, perché, ripeto, la carità non la si può delegare a una struttura. La carità è un fatto personale di ciascuno di noi. L'augurio dell'Arcivescovo della Diocesi di Pescara Penne l'auspicio anche per il nuovo anno. L'augurio è che l'anno nuovo ci porti finalmente qualcosa di buono da un punto di vista scientifico e medico, il vaccino, una cura, qualsiasi altra cosa che ci possa far uscire da questo tunnel grigio e buio. E poi la benedizione e la preghiera, veramente, perché nel cuore di tutti alberghi un po' di serenità, un po' di pace e di tranquillità, soprattutto pensando che l'Emmanuele, il bambino che contempleremo nella grotta di Betlemme, è ancora il Dio con noi, il Dio che sta in mezzo a noi, anche nelle sofferenze, anche nelle difficoltà, anche nelle fatiche. Il Signore non ci lascia, non ci abbandona. Grazie.